Dal libro di Mormon 1 Nefi 11 Poiché avvenne che dopo che ebbi desiderato di conoscere le cose che mio padre aveva visto, credendo che il Signore fosse in grado di farmele conoscere, mentre sedevo meditando nel mio cuore, fui rabito nello spirito del Signore, sì, su un'altissima montagna che non avevo mai visto prima e sulla quale prima non avevo mai messo piede. E lo spirito mi disse, ecco, cosa desideri? E io gli dissi, desidero vedere le cose che vide mio padre. E lo spirito mi disse, crei tu che tuo padre vide l'albero di cui ha parlato? E io gli dissi, sì, tu sai che io credo a tutte le parole di mio padre. E quando ebbi detto queste parole, lo spirito gridò ad alta voce dicendo, osanna al Signore, l'Altissimo è Dio, poiché egli è Dio su tutta la terra, sì, proprio tutta, è benedetto sei tu, Nefi, perché credi nel figlio dell'Altissimo è Dio, pertanto tu vedrai le cose che hai desiderato. Ed ecco, questo ti sarà dato come segno che dopo aver veduto l'albero che portava il frutto che tuo padre assaggiò, tu vedrai pure un uomo scendere dal cielo e testimonierai di lui, e dopo che avrai testimoniato di lui porterai testimonianza che è io il figlio di Dio. E avvenne che lo spirito mi disse, guarda, e guardai, e vidi un albero, ed era come l'albero che aveva visto mio padre, e la sua bellezza era di gran lunga superiore, sì, superava ogni altra bellezza, e il suo candore sorpassava il candore della neve sospinta dal vento. E avvenne che dopo che ebbi visto l'albero, dissi allo spirito, vedo che mi hai mostrato l'albero che è prezioso più di ogni altra cosa. Ed egli mi disse, cosa decideri? E io gli dissi, concerne conoscere l'interpretazione, poiché gli parlavo come parla un uomo, poiché vedevo che egli aveva la forma di un uomo, tuttavia, sapevo che era lo spirito del Signore, ed egli mi parlava come un uomo, parla a un altro uomo. E avvenne che egli disse, guarda, e io guardai, come per osservarlo, ma non lo vidi, poiché se n'era andato dalla mia presenza. E avvenne che guardai e vidi la grande città di Gerusalemme e anche altre città, e vidi la città di Nazareth, e nella città di Nazareth vidi una vergine, e ella era straordinariamente leggiadra e pura. E avvenne che vidi i cieli aprirsi, e un angelo scese, stette dinanzi a me, e mi disse, Nefi, cosa vedi? Ed egli dissi, e gli dissi, una vergine più bella e più leggiadra di ogni altra vergine. Ed egli mi disse, conosci tu la condiscendenza di Dio? E io gli dissi, so che egli ama i suoi figlioli, non di meno, non conosco il significato di tutte le cose. Ed egli mi disse, ecco, la vergine che vedi è la madre del figlio di Dio, secondo la carne. E avvenne che io vidi che ella era rapita nello spirito, e dopo che era stata rapita nello spirito, per lo spazio di un tempo, l'angelo mi parlò dicendo, guarda. E io guardai e vidi di nuovo la vergine che portava un bambino fra le sue braccia. E l'angelo mi disse, ecco, l'agnello di Dio, sì, proprio il figlio del padre eterno. Conosci tu il significato dell'albero che vide tuo padre? E io gli risposi dicendo, sì, è l'amore di Dio che si effonde nel cuore dei figlioli e dei uomini, pertanto è la più desiderabile di tutte le cose. Ed egli mi parlò dicendo, sì, è la più gioiosa per l'anima. E dopo che ebbe dette queste parole, mi disse, guarda, e io guardai e vidi il figlio di Dio avanzare fra i figlioli degli uomini e ne vidi molti cadere ai suoi piedi e adorarlo. E avvenne che io vidi che la verga di ferro che mio padre aveva visto era la parola di Dio che conduceva alla sorgente di acque vive, ossia l'albero della vita, le quali acque sono una rappresentazione dell'amore di Dio. E vidi pure che l'albero della vita era una rappresentazione dell'amore di Dio. E l'angelo mi disse di nuovo, guarda e vedi la condiscendenza di Dio. E guardai e vidi il redentore del mondo del quale aveva parlato mio padre. E vidi pure il profeta che avrebbe preparato il cammino dinanzi a lui. E l'agnello di Dio si fece avanti e fu battezzato da lui. E dopo che fu battezzato vidi i cieli aperti e lo Spirito Santo scendere dal cielo e soffermarsi su di lui in forma di una colomba. E vidi che andava esercitando il suo ministero presso il popolo in potenza e grande gloria. E le moltitudini si radunavano per udirlo e vidi che lo scacciavano di fra mezzo a loro. E vidi pure dodici, dodici altri che lo seguivano. E avvenne che essi furono rapiti nello Spirito dalla mia presenza e non li vidi più. E avvenne che l'angelo mi parlò di nuovo dicendo, guarda e guardai e vidi i cieli di nuovo aperti e vidi dei angeli discendere sui figlioli dei uomini ed essi seccitavano il loro ministero presso di loro. Ed egli mi parlò di nuovo dicendo, guarda e guardai e vidi l'agnello di Dio che andava fra i figlioli degli uomini e vidi moltitudini di persone che erano ammalate e che erano afflitte da ogni sorta di malattie, da demoni e da spiriti impuri. E l'angelo parlò e mi mostrò tutte queste cose. Ed esse furono guarite mediante il potere dell'agnello di Dio e i demoni e gli spiriti impuri venivano scacciati. E avvenne che l'angelo mi parlò di nuovo dicendo, guarda e io guardai e vidi l'agnello di Dio che era preso dal popolo, sì il figlio dell'eterno Dio era giudicato dal mondo e io vidi ne porto testimonianza. E io Nefi vidi che egli veniva innalzato sulla croce e ucciso per i peccati del mondo. E dopo che egli fu ucciso vidi le moltitudini della terra che si radunavano per combattere contro gli apostoli dell'agnello poiché così erano chiamati i dodici dell'angelo del Signore. E la moltitudine della terra era radunata e vidi che essi erano in un edificio ampio e spazioso come l'edificio che vide mio padre. E l'angelo del Signore mi parlò di nuovo dicendo, ecco il mondo e la sua saggezza, sì ecco il casato di Israele, si è radunato per combattere contro i dodici apostoli dell'agnello. E avvenne che io vidi e porto testimonianza che l'edificio grande e spazioso era l'orgoglio del mondo e cadde e la sua caduta fu grandissima e l'angelo del Signore mi parlò dicendo di nuovo, così sarà la distruzione di tutte le nazioni, stirpi, lingue e popoli che combatteranno contro i dodici apostoli dell'agnello. Capitolo 12 E avvenne che l'angelo mi disse, guarda e vedi la tua posterità ed anche la posterità dei tuoi fratelli e guardai e vidi la terra di promessa e vidi moltitudini di persone, sì come fossero in numero grande quanto la sabbia del mare. E avvenne che vidi moltitudini radunate per combattere una contro l'altra e vidi guerre, rumori di guerra e grandi stragi di spada fra il mio popolo. E avvenne che vidi morire molte generazioni per via delle guerre e delle contese nel paese e vidi molte città, sì al punto che non le contai. E avvenne che vidi una bruma tenebrosa sulla faccia della terra di promessa e vidi lampi e udì tuoni e terremoto e ogni sorta di rumori tumultuosi e vidi la terra e le rocce che si fendevano, vidi montagne crollare e pezzi, vidi la pianura della terra che si fendevano e vidi molte città che sprofondavano e ne vidi molte che venivano arse dal fuoco e ne vidi molte che crollavano a terra a causa del terremoto. E avvenne dopo che ebbi visto queste cose che vidi il vapore tenebroso che si diradava dalla faccia della terra ed ecco vidi delle moltitudini che non erano accadute a causa dei grandi e terribili giudizi del Signore. E vidi cieli aperti e l'agnello di Dio discendere dal cielo ed egli scese e si mostrò loro. E vidi pure e ne porto testimonianza che lo Spirito Santo scese su dodici altri ed essi furono ordinati da Dio e scelti. E l'angelo mi parlò dicendo ecco i dodici discepoli dell'agnello che sono scelti per esercitare il ministero presso la tua posterità. E mi disse ricordi i dodici apostoli dell'agnello? Ecco sono quelli che giudicheranno le dodici tribù di Israele pertanto i dodici ministri della tua posterità saranno giudicati da loro poiché voi siete del casato Israele. E questi dodici ministri che tu vedi giudicheranno la tua posterità ed ecco essi sono giusti per sempre poiché a motivo della loro fede nell'agnello di Dio le loro vesti sono rese candide nel suo sangue. E l'angelo mi disse guarda e guardai e vidi tre generazioni morire in rettitudini e le loro vesti erano candide proprio come l'agnello di Dio. E l'angelo mi disse questi sono resi candide nel sangue dell'agnello a motivo della loro fede in lui. E io Nefi vidi pure molti della quarta generazione morire rettitudini e venne che vidi la moltitudine della terra radunate. E l'angelo mi disse guarda la tua posterità e anche la posterità dei tuoi fratelli e avvenne che guardai e vidi il popolo della mia posterità radunato in moltitudini contro la posterità dei miei fratelli ed erano radunati per combattere. E l'angelo mi parlò dicendo guarda la sorgente d'acqua impura che vide tuo padre sì proprio il fiume di cui egli parlò e le sue profondità sono le profondità dell'inferno. E le brume tenebrose sono le tentazioni del diavolo che acceca gli occhi e indurisce il cuore dei figlioli degli uomini e li conduce per strade spaziose affinché periscano e siano perduti. E l'edificio ampio e spazioso che vide tuo padre sono le vane immaginazioni e l'orgoglio dei figlioli degli uomini e un grande e terribile abisso li divide sì proprio la parola della giustizia dell'eterno è Dio e del messia che è l'agnello di Dio del quale lo spirito santo porta testimonianza dal principio del mondo fino ad ora e d'ora innanzi e per sempre. E mentre l'angelo diceva queste parole io guardai e vidi che la posterità dei miei fratelli lottava contro la mia posterità secondo la parola dell'angelo e a causa dell'orgoglio della mia posterità e delle tentazioni del diavolo vidi che la posterità dei miei fratelli sopraffaceva quelli della mia posterità e avvenne che guardai e vidi il popolo della posterità dei miei fratelli che aveva sopraffatto la mia posterità e avanzava in moltitudini sulla faccia del paese e lì vidi radunati in moltitudini e vidi guerre e rumori di guerre fra loro e in guerre e rumori di guerre vidi morire molte generazioni e l'angelo mi disse ecco questi degenereranno nell'incredulità e avvenne che io vidi che dopo che erano degenerati nell'incredulità divennero un popolo scuro ripugnante e immondo pieno di pigrizia e di ogni sorta di abominazioni. Capitolo 13 e avvenne che l'angelo mi parlò dicendo guarda e io guardai e vidi molte nazioni e molti regni e l'angelo mi disse cosa vedi e io dissi vedo molte nazioni e molti regni ed egli mi disse queste sono le nazioni e i regni dei gentili e avvenne che io vidi fra le nazioni dei gentili la formazione di una grande chiesa e l'angelo mi disse guarda la formazione di una chiesa che è la più abominevole di tutte le altre chiese che uccide i santi di Dio si li tortura e li incatena e li aggioca con un gioco di ferro e li riduce in schiavitù e avvenne che io vidi questa chiesa grande e abominevole e vidi il diavolo che ne era il fondatore e vidi puro oro e argento e sete e popole stoffe bentessute e ogni sorta di preziosi abbiamente e vidi molte meretrici e l'angelo mi parlò dicendo vedi loro l'argento le sete le porpore le stoffe bentessuti i preziosi abbigliamenti e le meritrici sono i desideri di questa chiesa grande e abominevole e anche per le lodi del mondo essi distruggono i santi di Dio e li riducono in schiavitù e avvenne che io guardai e vidi molte acque ed esse dividevano i gentili dalla posterità dei miei fratelli e avvenne che l'angelo mi disse vedi la collare di Dio è sulla posterità dei tuoi fratelli e io guardai e vidi un uomo fra i gentili che era separato dalla posterità dei miei fratelli dalle molte acque e vidi lo spirito di Dio che scese e agì su quell'uomo ed egli avanzò sulle molte acque proprio fino alla posterità dei miei fratelli che erano nella terra promessa e avvenne che io vidi lo spirito di Dio che agiva su altri gentili ed essi uscirono fuori di schiavitù sulle molte acque e avvenne che vidi numerose moltitudini gentili sulla terra di promessa e vidi l'ira di Dio che era sulla posterità dei miei fratelli ed essi erano dispersi davanti ai gentili ed erano percossi e vidi lo spirito del Signore che era sui gentili ed essi prosperavano e ottenevano il paese per la loro verità e vidi che erano bianchi e molto attraenti e belli come quelli del mio popolo prima che essi fossero uccisi e avvenne che io nefi vidi che i gentili che erano usciti di schiavitù si umiliavano davanti al Signore e il potere del Signore era con loro e vidi che le madri patrie dei gentili si radunavano sulle acque e anche sulla terra per combattere contro di loro e vidi che il potere di Dio era con loro e anche che l'ira di Dio era su tutti quelli che erano radunati per combattere contro di loro e io nefi vidi che i gentili che erano usciti di schiavitù erano liberati dal potere di Dio e dalle mani di tutte le altre nazioni e avvenne che io nefi vidi che prosperavano nel paese e vidi un libro ed esso veniva diffuso fra loro e l'angelo mi disse conosci il significato del libro e io gli dissi non lo conosco ed egli disse ecco esce dalla bocca di un giudeo e io nefi lo vidi e gli mi disse il libro che vedi è una storia di giudei che contiene le alleanze che il Signore ha fatto con il casato Israele e contiene pure molte delle profezie dei santi profeti ed è una storia simile alle incisioni che sono sulle tavole di bronzo salvo che non ce ne sono così tante non di meno esse contengono le alleanze che il Signore ha fatto con il casato Israele pertanto sono di grande valore per i gentili e l'angelo del Signore mi disse hai visto che il libro usciva dalla bocca di un giudeo e quando usciva dalla bocca di un giudeo conteneva la pienezza del Vangelo del Signore del quale i dodici apostoli portano testimonianza ed essi portano testimonianza secondo la verità che è nell'agnello di Dio pertanto queste cose passano in purezza dei giudei ai gentili secondo la verità che è in Dio e dopo essere passate per mano dei dodici apostoli dell'agnello dei giudei ai gentili vedi la formazione di quella chiesa grande abominevole che è la più abominevole di tutte le altre chiese poiché ecco essi hanno tolto dal Vangelo dell'agnello molte parti che sono chiare preziosissime e hanno anche tolto molte alleanze del Signore e hanno fatto tutto questo per poter pervertire le giuste vie del Signore per poter accecare gli occhi e indurire il cuore dei figli degli uomini pertanto tu vedi che dopo che il libro è passato per le mani nella chiesa grande abominevole vi sono molte cose chiare e preziose che sono state tolte dal libro che è il libro del Vangelo di Dio e dopo che queste cose chiare e preziose sono state tolte esso si diffonde in tutte le nazioni dei gentili e dopo che è diffuso fra tutte le nazioni dei gentili si anche al di là delle molte acque che tu hai visto assieme ai gentili che sono usciti fuori di schiavitù tu vedi a causa delle molte cose chiare e preziose che sono state tolte dal libro che erano chiare alla comprensione dei figlioli degli uomini secondo la chiarezza che è nell'agnello di Dio a causa di queste cose che sono tolte dal Vangelo dell'agnello moltissimi davvero inciampano si tanto che Satana ha grande potere su di loro non di meno tu vedi che i gentili che sono usciti fuori di schiavitù e che sono stati elevati dal potere di Dio sopra tutte le altre nazioni sulla faccia della terra che è scelta sopra tutte le altre terre che è la terra riguardo alla quale il Signore Dio fece alleanza con tuo padre che la posterità avrebbe possuto come terra di loro eredità pertanto vedi che il Signore Dio non permetterà che i gentili annientino completamente la nevescolanza della tua posterità che è fra i tuoi fratelli e neppure permetterà che i gentili annientino la posterità dei tuoi fratelli né il Signore Dio permetterà che i gentili rimangano per sempre in quell'orribile stato di cecità in cui vedi che si trovano a causa delle parti chiare preziosissime del Vangelo dell'Agnello che sono state celate da quella chiesa abominevole di cui hai visto la formazione pertanto dice il Signore Dio io sarò misericordioso verso i gentili fino a visitare il residuo del casato Israele con grandi giudizi e avvenne che l'angelo del Signore mi parlo dicendo ecco dice l'agnello di Dio dopo che avrò visitato il residuo del casato Israele e questo residuo di cui parla è la posterità di tuo padre pertanto dopo che l'avrò visitato in giudizio percorso per mano dei gentili e dopo che i gentili avranno inciampato grandemente a causa delle parti molte chiare preziose del Vangelo dell'Agnello che sono state celate da quella chiesa abominevole che è la madre delle meretrici dice l'agnello in quel giorno io sarò misericordioso verso i gentili tanto che farò venire alla luce per loro mediante il mio potere gran parte del mio Vangelo che sarà chiaro e prezioso dice l'agnello poiché ecco dice l'agnello io mi manifesterò alla tua posterità così che essi scriveranno molte cose che io impartirò loro che saranno chiare preziose e dopo che la tua posterità sarà stata distrutta e sarà degenerata nell'incredulità come pure la posterità dei tuoi fratelli ecco queste cose saranno nascoste per venire alla luce per i gentili per dono e potere dell'agnello ed in esse sarà scritto il mio Vangelo dice l'agnello e la mia roccia e la mia salvezza e benedetti sono coloro che cercheranno di far sorgere la mia sione in quel giorno poiché avranno il dono e il potere dello Spirito Santo e se perseveranno fino alla fine saranno elevati all'ultimo giorno e saranno salvati nel regno eterno dell'agnello e coloro annunzieranno la pace sì notizie di grande gioia quanto saranno belli essi sulle montagne e avvenne che io vidi il residuo della posterità dei miei fratelli e anche il libro dell'agnello di dio che era uscito dalla bocca del giudeo e che passò dai gentili al residuo della posterità dei miei fratelli e dopo che fu passato ad essi vidi altri libri che passavano dai gentili a loro che il potere dell'agnello per convincere i gentili e il residuo della posterità dei miei fratelli e anche i giudei che erano dispersi su tutta la faccia della terra che gli annali dei profeti e dei dodici apostoli dell'agnello sono veritieri e l'angelo mi parlo dicendo questi ultimi annali che hai visto fra i gentili confermano la verità dei primi che sono dei dodici apostoli dell'agnello e faranno conoscere le cose chiare e preziose che ne sono state tolte e faranno conoscere a tutte le tribù lingue e popoli che l'agnello di dio è il figlio del padre eterno e il salvatore del mondo e che tutti gli uomini debbono venire a lui altrimenti non possono essere salvati e devono venire secondo le parole che saranno confermate dalla bocca dell'agnello e le parole dell'agnello saranno rese note negli annali della tua posterità così come negli annali dei dodici apostoli dell'agnello pertanto saranno entrambi confermati in uno poiché vi è un solo dio è un solo pastore su tutta la terra e viene il tempo in cui egli si manifesterà a tutte le nazioni sia ai giudei che ai gentili e dopo essersi manifestato ai giudei anche ai gentili allora egli si manifesterà ai gentili e anche ai giudei e gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi capitolo 14 e avverrà che se i gentili daranno ascolto all'agnello di dio nel giorno in cui egli si manifesterà a loro in parole e anche in potere in verità fino a togliere le loro pietre d'inciampo e non induniranno il loro cuore contro l'agnello essi saranno annoverati fra la posterità di tuo padre sì essi saranno annoverati nel casato di israele e saranno un popolo benedetto nella terra promessa per sempre non saranno mai più ridotti in schiavitù e il casato di israele non sarà più confuso è quel grande abisso che è stato scavato per loro da quella chiesa grande abominevole che fu fondata dal diavolo e dei suoi figli affinché ei potesse condurre le anime degli uomini giù in inferno sì quel grande abisso che è stato scavato per la distruzione degli uomini sarà riempito con quelli che lo scavarono fino alla loro completa distruzione dice l'agnello di dio non la distruzione dell'anima salvo che sia gettata in quell'inferno che non ha fine poiché ecco ciò è a seconda la scrivitù del diavolo e anche secondo la giustizia di dio per tutti coloro che opereranno nella malvagità e nell'abominazione al suo cospetto e avvenne che l'angelo parlò a me nefi dicendo hai visto che se i gentili si pentono tutto andrà bene per loro e tu hai pure conoscenza riguardo alle alleanze del signore con il casato israele e hai anche udito che chiunque non si pente deve perire guai dunque gentili se accadrà che induriscano il cuore contro l'agnello di dio poiché avverrà il tempo dice l'agnello di dio in cui io compirò un'opera grande e meravigliosa per figlio degli uomini un'opera che per un verso o per l'altro sarà perpetua o per convincerli alla pace e alla vita eterna o per abbandonarli alla durezza del loro cuore e alla siccità del loro mente fino a che siano ridotti schiavitù e anche alla distruzione sia materiale che spirituale secondo la schiavitù del diavolo di cui ho parlato e avvenne che quando l'angelo ebbe detto queste parole mi disse ricordi le alleanze del padre con il casato israele io gli dissi sì e avvenne che gli disse guarda e vedi questa chiesa grande abominevole che è la madre dell'abominazione il cui fondatore è il diavolo ed gli disse ecco non vi sono che due chiese soltanto una è la chiesa dell'agnello di dio e l'altra è la chiesa del diavolo pertanto chiunque non appartiene alla chiesa dell'agnello di dio appartiene a quella grande chiesa che è la madre delle abominazioni ed è la prostituta di tutta la terra e avvenne che guardai e vidi la prostituta di tutta la terra e sedeva su molte acque e aveva dominio sopra tutta la terra fra tutte le nazioni tribù lingue e popoli e avvenne che io vidi la chiesa dell'agnello di dio ed era poco numerosa a causa della malvagità delle abominazioni della prostituta che sedeva su molte acque non di meno vidi che la chiesa dell'agnello che erano i santi di dio era pure su tutta la faccia della terra e i suoi domini sulla faccia della terra erano modesti a causa della malvagità della grande prostituta che aveva visto e avvenne che vidi che la grande madre delle abominazioni radunava delle moltitudini sulla faccia di tutta la terra fra tutte le nazioni dei gentili per combattere contro l'agnello di dio e avvenne che io nefi vidi il potere dell'agnello di dio che scendeva sui santi della chiesa dell'agnello e sul popolo dell'alleanza del signore che era disperso su tutta la faccia della terra ed esso era armato di rettitudine e del potere di dio in grande gloria e avvenne che io vidi che l'ira di dio era riversata su quella chiesa grande abominevole tanto che ci furono guerre rumori di guerra fra tutte le nazioni e tribù della terra e mentre cominciavano 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 ad esservi guerre rumori di guerre fra tutte le nazioni che appartenevano alla madre delle abominazioni l'angelo mi parlò dicendo guarda l'ira di dio è sulla madre delle meritrici ed ecco tu vedi tutte queste cose e quando verrà il giorno in cui l'ira di dio sarà riversata sulla madre delle meritrici che è la chiesa grande e abominevole di tutta la terra il cui fondatore è il diavolo allora in quel giorno comincerà l'opera del padre col preparare la via all'adempimento delle sue alleanze che egli ha fatto col suo popolo che è del casato di israele e avvenne che l'angelo mi parlò dicendo guarda e guardai e vedi un uomo che era vestito di una veste bianca e l'angelo disse ecco uno dei dolci apostoli dell'agnello ecco e gli vedrà e scriverà il resto di queste cose sì e anche molte altre cose che sono avvenute e scriverà pure riguardo alla fine del mondo pertanto le cose che scriverà sono giuste varrà ed ecco sono scritte nel libro che vedessi uscire dalla bocca del giudeo e al tempo in cui uscirono dalla bocca del giudeo ovvero al tempo in cui il libro uscì dalla bocca del giudeo le cose che erano scritte erano chiare eppure preziosissime e facile da essere comprese da tutti gli uomini ed ecco le cose che questo apostolo dell'agnello scriverà saranno molte cose che tu hai visto ed ecco il resto lo vedrai ma le cose che vedrai qui di seguito non le scriverai poiché il signore dio ha ordinato l'apostolo dell'agnello di dio affinché sia lui a scriverle e anche ad altri che sono vissuti prima che egli ha mostrato tutte le cose ed essi le hanno scritte e sono sigillate per venire alla luce nella loro piena purezza secondo la verità che è nell'agnello al tempo stabilito dal signore al casato di israele e io nefi udì e porto testimonianza che il nome dell'apostolo dell'agnello era giovanni secondo le parole dell'angelo ed ecco a me nefi è stato proibito di scrivere il resto delle cose che avevo visto e udito pertanto le cose che ho scritto mi sono sufficienti e non ho scritto che una piccola parte delle cose che ho visto e porto testimonianza di aver visto le cose che vide mio padre e l'angelo del signore me le ha fatte conoscere ed ora smetto di parlare riguardo alle cose che vide mentre ero rapito nello spirito e se tutte le cose che vidi sono non sono scritte le cose che ho scritto sono vere e così è amen capitolo 15 e avvenne che io nefi dopo essere stato rapito nello spirito ed aver visto tutte queste cose ritornai alla tenda di mio padre e avvenne che vidi i miei fratelli che stavano disputando l'uno con l'altro in merito alle cose che mio padre aveva detto loro poiché in verità egli aveva detto loro molte cose grandi che erano difficili da capire a meno che non si chieda al signore ed essendo essi duri di cuore non si rivolgerono dunque al signore come avrebbero dovuto ed ora io nefi ero afflitto a causa della durezza del loro cuore ed anche per le cose che avevo visto e sapevo che dovevano inevitabilmente avvenire a causa della grande malvagità dei figli uomini e avvenne che fui sopraffatto a causa delle mie afflizioni poiché consideravo che le mie afflizioni erano grandi oltre ogni cosa a causa della distruzione del mio popolo poiché avevo visto la sua caduta e avvenne che dopo che ebbi ricevuto forza parlai ai miei fratelli desiderando conoscere da loro la causa della loro disputa ed essi dissero ecco noi non possiamo comprendere la parola che il nostro padre ha detto riguardo ai rami naturali dell'olivo e anche riguardo ai gentili e io gli dissi loro avete chiesto al signore ed essi mi dissero non l'abbiamo fatto perché il signore non ci fa conoscere tali cose ed ecco io gli dissi loro come mai non obbedite ai comandamenti del signore come mai volete perire a causa della durezza del vostro cuore non ricordate le cose che ha detto il signore se non indurite il vostro cuore e mi chiederete con fede credendo che riceverete obbedendo dirigentemente ai miei comandamenti queste cose vi saranno certamente rese note ecco io vi dico che il casato israele fu paragonato a un olivo dallo spirito del signore che era il nostro padre ed ecco non siamo noi stati staccati dal casato israele e non siamo noi un ramo del casato israele e ora ciò che vuol dire nostro padre riguardo all'innesto dei rami naturali attraverso la pienezza dei gentili è che negli ultimi giorni quando la nostra posterità sarà degenerata nell'incredibilità sì per lo spazio di molti anni e molte generazioni dopo che il messia si sarà manifestato nel corpo e figliore degli uomini allora la pienezza del vangelo del messia giungerà ai gentili ed è gentili al residuo della nostra posterità e in quel giorno il residuo della nostra posterità saprà di essere del casato israele e di essere il popolo dell'alleanza del signore e allora essi sapranno e verranno a conoscenza dei loro antenati e anche a conoscenza del vangelo del loro dentore che fu da lui impartito ai loro padri pertanto essi verranno a conoscenza del loro dentore e dei punti precisi della sua dottrina affinché possano sapere come venire a lui ed essere salvati e allora in quel giorno non gioiranno essi e non daranno lode al loro eterno dio loro rocca e loro salvezza sì in quel giorno non riceveranno essi forse nutrimento dalla vera vigna sì non verranno essi a al vero greggio di dio ecco io vi dico sì essi saranno di nuovo ricordati fra il casato israele e saranno innestati essendo un ramo naturale dell'olivo sul vero olivo e questo è ciò che vuol dire nostro padre vuol dire che ciò che avverrà fin dopo che saranno stati dispersi dai gentili e vuol dire che ciò che avverrà per il tramite dei gentili affinché il signore possa mostrare il suo potere ai gentili per la precisa ragione che gli sarà stato gettato dai giudei ossia dal casato israele pertanto nostro padre non ha parlato soltanto della nostra posterità ma anche di tutto il casato israele sottolineando l'alleanza che verrà tempiuta negli ultimi giorni alleanza che il signore fece con il nostro padre abbramo dicendo nella tua posterità tutte le tribù della terra saranno benedette e avvenne che io nefi parlai loro molto riguardo a queste cose si parlai loro riguardo alla restaurazione dei giudei negli ultimi giorni ripetei loro le parole di isaia che parlò riguardo alla restaurazione dei giudei ossia del casato israele e che dopo essere stati ristabiliti non sarebbero più stati confusi né sarebbero più stati dispersi e avvenne che io dissi molte parole ai miei fratelli così che essi furono pacificati e si umiliarono dinanzi al signore e avvenne che essi mi parlarono di nuovo dicendo che significa ciò che nostro padre ha visto in sogno che significa l'albero che egli ha visto e io dissi loro era una raffigurazione dell'albero della vita ed essi mi dissero che significa la verga di ferro che vide nostro padre e che conduce all'albero io gli dissi loro che era la parola di dio e che chiunque avesse dato ascolto alla parola di dio e vi fosse attenuto saldamente non sarebbe mai perito né le tentazioni né i dardi feroci dell'avversario avrebbero potuto sopraffarli fino ad accecarli per trascinarli alla distruzione pertanto io nefi li esortai a prestare attenzione alla parola del signore si li esortai con tutte le energie della mia anima e con tutte le facoltà che possedevo a prestare attenzione alla parola di dio e a ricordarsi di obbedire sempre ai suoi comandamenti in ogni cosa ed egli mi dissero essi mi dissero che significa il fiume d'acqua che vide nostro padre e io dissi loro che l'acqua che aveva visto nostro padre era sozzurra e che la sua mente era così immersa in altre cose che non aveva visto la sozzurra dell'acqua e dissi loro che era un orribile voragine che separava i malvaggi dall'albero della vita e anche dai santi di dio e dissi loro che era una della rifugurazione di quell'orribile inferno che l'angelo mi disse che era stato preparato per i malvaggi e dissi loro che nostro padre aveva visto pure che anche la giustizia di dio divideva i malvaggi dei giusti e che il loro splendore era come lo splendore di un fuoco fiammeggiante che ascende verso dio per sempre e in eterno e non ha fine ed essi mi dissero significa questo il tormento del corpo nei giorni di prova e significa lo stato finale dell'anima dopo la morte del corpo temporale o parla di cose che sono temporali e avvenne che io dissi loro che era una raffigurazione di cose sia materiali che spirituali poiché sarebbe venuto il giorno in cui essi sarebbero stati giudicati per le loro opere si proprio le opere compiute mediante il corpo fisico durante i loro giorni di prova pertanto se fossero morti nella loro malvagità essi pure avrebbero dovuto essere ricettati quanto alle cose che sono cose spirituali che si riferiscono alle rettitudine pertanto essi devono essere portati a stare innanzi a dio per essere giudicati per le loro opere e se le loro opere sono state immonde è inevitabile che essi siano immondi e se essi sono immondi è inevitabile che essi non possano dimorare nel regno di dio altrimenti anche il regno di dio dovrebbe essere immondo ma ecco io vi dico che il regno di dio non è immondo e nessuna cosa impura può entrare nel regno di dio pertanto è inevitabile che ci sia un luogo immondo preparato per ciò che è immondo e c'è un luogo preparato sì proprio quell'orribile inferno di cui ho parlato e il diavolo ne è l'artefice pertanto la condizione finale delle anime degli uomini è di dimorare nel regno di dio o di essere scacciati a causa di quella giustizia di cui ho parlato pertanto i malvaggi sono respinti lontano dei giusti e anche da quelli da quell'albero della vita il cui frutto è il più prezioso è il più desiderabile di tutti gli altri frutti sì ed è il più grande di tutti i doni di dio e così io parlo ai miei fratelli amen